pronto ciao ricky come stai io bene tutto posto era insomma dai fa ancora un po caldo però ci stiamo riprendendo tu bambini ok come mai questa telefonata no dici sul serio uno scherzo ma se ma dai mi stai prendendo in giro non è possibile non ci credo che no ma non credo ma potete fare un'operazione simile dici si ma ne dicono tante però dai solo solo i più i sole dei trattori ci credono allora le motivazioni mi sembrano buone sostanzialmente dai però guarda però io ti dico una cosa io la divulgo questa cosa è che mi hai detto è ormai me l'hai detta io non posso far finta di niente no 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 allora no 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 ci faccio subito un video e lo so vabbè lavoro di immaginazione l'importante che tu mi hai dato questa notizia va bene ci vediamo presto ciao buone cose dai un bacetto ai bimbi ciao 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 notizia bomba ragazzi sapete che mi ha chiamato il presidente di rolex riccardo marini non ci crederete mi ha detto che hanno studiato una joint venture con swatch e non so se ve lo posso dire praticamente nascerà lo suolex c'è questa collaborazione tra swatch e rolex questo non scopo assoluto ragazzi mi ha detto di non divulgare ma a questo punto io divulgo tanto ormai me l'ha detto e punteranno sui primi loro due modelli quelli diciamo più insomma uno il più diffuso e l'altro il più ambito e il daytona e il date just produrranno questo orologio stavolta però in acciaio e quindi non hanno detto bioceramica quindi sarà della serie ironi con le fattezze del daytona e del date just e mi ha dato anche le insomma le motivazioni mi ha detto che innanzitutto si è scocciato di liste di attesa quindi di vedere i propri clienti clienti di rolex in lista per tanti anni soprattutto per il daytona 7 anni 8 anni quindi praticamente si è stufato di questa cosa e poi perché ha visto che insomma swatch ci ha preso gusto con i suoi modelli più famosi del gruppo blen pen e omega con il muse watch e ha detto ci voglio provare pure io ci vogliono provare pure loro quindi a breve daranno rilasceranno questi due modelli all'inizio mi ha detto che poi ce ne saranno anche altri quindi è una notizia incredibile e nel frattempo mentre realizzavo questo video mi ha mandato due rendering che vi faccio vedere quindi questo sarà il lo suolex date just e questo sarà lo suolex daytona quindi insomma praticamente l'unione delle due parole swatch rolex suolex nome insomma tutto sommato pronunciabile e quindi saranno questi due nuovi modelli che rolex lancerà poi mi ha detto anche un'altra cosa detto visto che non siamo riusciti con il programma cpo a domare reseller e nemmeno comprando buscherer siamo riusciti ad avere il controllo sul secondo polso noi facciamo una cosa e mettiamo questi modelli a grande diffusione infatti mi ha detto che il cronografo costerà 270 euro e il solo tempo con la data costerà sui 120 euro e allora quindi non solo chi non può spendere potrà avere il suo rolex l'alternativa della casa coronata chi non vuole aspettare la lista d'attesa e soprattutto così si eviterà che i reseller alzeranno i prezzi cioè praticamente con questa operazione rolex amplierà di tanto l'offerta quindi non ci sarà più penuria di orologi non ci sarà più una domanda tanto maggiore rispetto all'offerta quindi abbatteranno i costi ma quando mai quando mai ragazzi allora prima di fare questo video ho fatto una riflessione e reputo reputo la mossa del gruppo swatch al di là del moon swatch che tutto sommato insomma è stato un grande successo una mossa poco elegante poi fatemi sapere nei commenti se la pensate come me oppure no io il moon swatch l'ho comprato me l'hanno regalato quindi ce l'ho e adesso quando hanno rilasciato questi modelli di blenpen il 50 phatoms di blenpen per in occasione del settantesimo anniversario vi dico la verità mi ha fatto del male notare sulla loro pagina ufficiale sia quella di swatch che su quella di blenpen blenpen che si è sempre vantata di non aver mai fatto orologi al quarzo di aver sempre prodotto orologi per una certa nicchia di persone con una qualità con l'eccellenza sporcare questo marchio con la scritta swatch mi ha davvero fatto del male vedere la stessa locandina raffigurante i cinque oceani che hanno postato sulla pagina swatch vederla sul sulla pagina blenpen mi ha davvero fatto del male innanzitutto perché loro hanno proposto adesso questa questo orologio questo 50 phatoms in plastica con in effetti con i colori dei cinque oceani no ispirandosi a questi cinque oceani io dico ma la storia è quella di blenpen con il 50 phatoms oppure quella di swatch il legame con l'oceano quale inoltre mi faceva un'altra domanda spesso spesso diciamo o meglio dicono che rolex è poco seria per la politica è poco seria per le liste d'attesa è poco seria perché in effetti ci sono i reseller e lei rifavorisce è poco seria perché l'usato vale più del nuovo è poco seria per ma scusatemi io ho simulato mi sono inventato di sana pianta questa cosa ma se rolex avesse fatto un'operazione alla swatch come l'avremmo presa come l'ennesima pagliacciata il rolex ha dimostrato in queste operazioni che innanzitutto non ha bisogno di risollevare nulla perché blenpen produce appena 27 mila orologi l'anno la seconda cosa è che non tutti nessuno quasi sa che il 50 phatoms è stato il primo orologio impermeabile da immersione primo orologio subacchio con la ghiera girevole il primo orologio con la corona vite nessuno lo sa l'hanno scoperto in questi giorni perché sono andati a documentarsi e il blenpen 50 phatoms ha assunto un po di come dire di notorietà ma fino a dieci giorni fa non se lo filava nessuno quindi swatch con quest'operazione cosa ha fatto ha rimpinguato le casse dei suoi orologi a plastica ha rimpinguato le casse per quanto riguarda la vintage dei suoi orologi in plastica e ha cresciuto la storia del 50 phatoms ma c'è stato bisogno di un'operazione del genere ed è vero che blenpen è del gruppo swatch ma è pur vero che non avrebbero dovuto permettere un'operazione del genere trasformare un orologio che è un mito dove loro si sono vantati sempre dell'eccellenza trasformarlo in un giocattolo è una cosa che non sta né in cielo né in terra è un'offesa all'eccellenza svizzera e alla manifattura di blenpen che è una delle più antiche cioè vi rendete conto se l'avesse fatto rolex ecco perché vi dico che oggi rolex è una casa non seria di più è serissima ecco perché quando vi dico che i soldi di rolex sono soldi ben spesi e al prezzo di listino di rolex non c'è nulla di meglio nel panorama l'orogiero mondiale è vero perché rolex non è un'azienda che fa pagliacciate del genere vi rendete conto tutti quanti a fare la fila per accaparrarsi l'orologio in plastica ma stiamo scherzando è un'offesa a quello che blenpen ha fatto in questi anni un'offesa ci siamo divertiti ho voluto fare un video goleardico però fatemi sapere che cosa ne pensate nel video anche perché sono comparsi i primi preordini per il nuovo blenpen 50 fathoms per swatch addirittura a 2000 euro dice se non vuoi fare la coda vi rimetto le immagini se non vuoi fare la coda la faccio io al posto tuo accetto il preordine ragazzi ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando non lo so comestamente ragazzi veramente mi dispiace davvero per per cui per il gruppo suo ci sta facendo queste trovate quindi il mio video quando vi dicevo che poi lo farà con breghe e con le in nessuno come cavolo si pronuncia probabilmente sarà così aspetteranno qualche anno adesso per lanciare questi modelli e tutti quanti che si fionderanno a comprarli fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate va bene ci vediamo presto ciao a tutti